Si era avvicinato ai tavolini di un bar, poi aveva rubato uno smartphone approfittando di un attimo di disattenzione della proprietaria. Il furto però era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza della zona e così quando i carabinieri di Montevarchi hanno iniziato le indagini nel giro di poco sono riusciti a risalire al ladro e denunciarlo. Il tutto è successo qualche giorno fa, la donna aveva subito il furto mentre stava facendo colazione in una pasticceria del centro. Una volta rientrata in casa aveva notato di non avere più con sé il cellulare e in un primo momento aveva pensato di averlo lasciato al locale, ma tornata al bar non aveva trovato nulla e così si era rivolta ai carabinieri. Grazie alle testimonianze raccolte ma soprattutto alle immagini di video sorveglianza comunali e private, i militari hanno identificato l'autore del furto. Si tratta di un uomo originario della provincia di Palermo, già coinvolto in svariate altre vicende giudiziarie nel territorio valdarnese. Lo smartphone è stato ritrovato e sottoposto a sequestro per essere poi prontamente restituito alla legittima proprietaria.